Salve gente, ci vediamo ancora, ma siamo qua qua insieme, quando mai? Intanto bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi siamo qui in un video speciale, che siamo qua per dirvi che abbiamo fatto la programmazione del canale YouTube, di questo qua. Allora, i video usciranno al mercoledì e al sabato, sabato uscirà prestissimo, non sappiamo ancora che ora, forse faremo alle 8 e mezza di mattina, e il mercoledì, che voglio fare Michele, facciamo alle 10, alle 10 di mattina. Quindi, quando resteremo a lavorare, usciranno dei video per fare compagnia, così non state da soli. Aspettate una cosa, quando non vedete video è perché non abbiamo video pronti, e quindi il canale verrà un po' sospeso, e appena andremo a registrare qualcosa, ve lo programmeremo per la settimana che abbiamo perso. Ovviamente, adesso, io e Michele dobbiamo fare anche una intro, perché ci siamo accorti che nel nostro canale manca una intro, vero Michele? Esatto. Quindi, adesso, mio computer, che se mi danno a mano che noi collaboriamo insieme, facciamo una intro bellissima, non mi dite come sarà la intro, lo vedrete nel prossimo video. Quindi, adesso noi andiamo a fare una intro nuova e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao a tutti.